Siamo a Viareggio al Versilia Yachty Rendezvous 2019, è la terza edizione, è un rendezvous come si chiama, quindi è un evento glamour di alto di gamma, maxi yacht, giga yacht e già in tre edizioni abbiamo ottenuto un buon risultato. In questi giorni al Marina Cala dei Medici sono arrivati 4 mega yacht oltre i 30 metri e ciò dimostra che la fiera è sicuramente targhettizzata giusta e sta portando imbarcazioni nella costa toscana. Oggi presentiamo un nuovo brand che è Marina della Toscana, è un brand che si collega al brand toscano Costa Toscana e Isola di Toscana e rappresenta le eccellenze della portualità e dei marina di tutta la costa della Toscana. Nel consorzio hanno già aderito Marina Cala dei Medici, Marina di Salivoli, il porto di Viareggio e entreranno a breve altre marina tra cui Marina di Ponte d'Oro che è il nuovo porto che viene realizzato a Piombino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.